Siamo qui con Robson Machado Toledo, il brasiliano della Pistoiese, inizierei ripassando un attimino la tua carriera. Sei arrivato in Italia segnalato da Careca ai talent scout del Perugia di Luciano Gaucci. Cosa ti ricordi dell'esperienza e di questo episodio che ti ha aperto al campionato italiano? Tutto è iniziato nel torneio di Via Reggio che ho fatto con la squadra brasiliana, di cui partecipava anche il Perugia Calcio, di cui è bastata una mezz'oretta di una partita per far con cui loro mi avevano fatto questa proposta di fare parte della loro società e quindi avendo una proposta di questo tipo, di questo calibro, secondo me non si può rifiutare. Quindi l'avventura è iniziata tutto da lì. Un'avventura che ti ha portato a squadre di un certo calibro, dal Napoli alla Triestina con la quale è l'ultima squadra in cui hai addirittura disputato il campionato cadetto della Serie B. Insomma, come ci domanda anche un nostro amico Marco, quali sono le differenze tra giocare in una categoria chiaramente di un certo tipo, la Lega Pro come la Serie B, rispetto alle difficoltà invece diverse che si incontrano invece in un campionato come la Serie D? Io penso che la categoria è sempre di rispettarla e di tenerla in considerazione. Poi io penso che più in alto vai, più facile è, è meglio e trovi più facilità per giocare. Più scende di categoria, più difficile è perché vai a giocare nei campi particolari e poi subirentrano tanti altri fattori che magari nelle categorie superiori non li trovi. Però, come vi ho detto, il discorso è che scendendo di categoria tu sei costretto a dare di più perché è da lì dove tutto inizia. Quindi è un po' più difficile, dove magari tutti vanno a ricerca della palla, non c'è tanta pazienza in gestire, c'è soltanto la voglia di attaccare e di chiudere il quanto prima la partita. Invece magari nelle altre categorie le squadre tatticamente sono ben messe in messa al campo quindi è un calcio diverso, più paziente. Però penso che è un calcio validissimo, come ho detto, da tenere sempre in considerazione perché è una categoria importante e valida e ci sono tanti ragazzi bravi, secondo me, dei talenti che in futuro virano fuori. Ormai sei arrivato da più di un mese qui a Pistoia e diciamo che questo è stato un mese anche un attimino particolare. Comunque, dopo più di un mese con la maglia arancione, cos'è che pensi della società, della città, insomma, quali sono le tue aspettative per questo campionato? Io penso che nella vita c'è sempre da imparare, non dobbiamo mai buttare nulla. Anzi, dobbiamo essere sempre convinti delle scelte che facciamo, che sia positiva o negativa, perché io penso che quando parte di una decisione che sei convinto diventa tutto più facile. Poi il discorso di venire qui a Pistoia c'è stato quando si è fatto presente il direttore sportivo e poi ci siamo confrontati, poi siamo riusciti a trovare questo accordo. È da un mese che sono qui, è da un mese che mi sento a casa. Sembra che sono qui da una vita dove ho trovato un ambiente giusto per lavorare, dove mi danno la giusta tranquillità, anche se per ora la classifica non ci concede tanto di lavorare tranquillamente. Però io sono convinto che il lavoro che si svolge durante la settimana, io penso che possiamo dire la nostra per queste ultime 12 partite che ci mancano. Sei saltato alla ribalta sulle cronache dopo un episodio un po' particolare che ti è successo a Ravenna con i tifosi. Ce lo vuoi raccontare la tua versione a questo punto? No, lì è quello che si è creato, è stato un malintereso con non direi tutte le tifoserie, perché lì mi vedevano abbastanza bene, poi è stata una società che mi ha accolto benissimo, una società con cui ho finito ora un bel rapporto e una società che mi ha dato tanto. Quindi l'unica cosa che è successo è che c'erano cinque persone che non ripeto nemmeno tifosi, perché le persone che vengono lì a dare soltanto fastidio alla gente che lavora con insulti e roba di questo genere non li ripeto tifosi, non li ripeto persona per bene. Perché sono venuti soltanto lì a darci fastidio e nient'altro. Poi l'episodio sono state dette delle parole un po' pesanti, riguarda anche la mia mamma che non ce l'ho, quindi quella è stata proprio la scintilla che mi ha fatto scattare, che mi ha portato ad avere quel tipo di reazione. Diciamo che dal Brasile ci è arrivata una segnalazione, appunto il tuo grande fan, Rodigo Siqueira, ci ha contattati su Facebook perché anzitutto vuole una tua maglia a tutti i costi e poi aveva un paio di domande da farti. La prima è se tifi una squadra, qual è la tua squadra del cuore in Brasile e la seconda se è nei tuoi programmi prima di finire la tua carriera calcistica di ritornare da dove sei venuto. Io penso che come tutti i giocatori, come tutti i ragazzi hanno un sogno. Io una parte del mio sogno li ho avverati, poi come squadra proprio tipo il Corinthians, la squadra di San Paolo, della città mia, quindi un sogno che ho sempre avuto nel cassetto è magari di un giorno indossare quella maglia, però purtroppo inizialmente non è stato possibile, però io sono dei pareri che non possiamo mai dire mai nella vita. Magari in questi ultimi anni della mia carriera posso avere la fortuna di indossare quella maglia almeno per dieci minuti di partita, quindi io sarò contento e sarò sicuramente felice da quello che è stata la mia carriera perché sono riuscito ad aggiungere dei obiettivi che secondo me sono stati importanti. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!